Dio Calloni al Milan Club Busto Arsizio, che ricordi suscita? Suscita ricordi bellissimi, anche perché io sono nato a Busto Arsizio e poi mi ricordo tantissimo quando si veniva fuori dal sottopassaggio di San Siro dove si usciva, in faccia, nell'ultimo gradino vedevo sempre lo stiscione di Busto Arsizio è come giocare in casa Però pur essendo nato a Busto Arsizio, Gidio non ha mai giocato invece nella squadra della città, la Propate Sono ancora tifoso della Propate, sono sempre stato tifoso della Propate però non ho mai avuto l'occasione di mettere questa bella maglia C'è ancora tanta passione per il Milan in questa città La passione per il Milan si diventa dove mi ha costruito come uomo e come calciatore